Perché fra l'altro noi stiamo parlando di tutti, tu in questo libro qui, esamini artisti tutti, che hanno lasciato un segno incredibile nella storia della musica, per esempio Robert Johnson, si dice la leggenda che non sapesse suonare la chitarra, poi va in un crossroads, in un crocio, vende l'anima al diavolo e torna a suonare la chitarra. Sì, prima aveva preso lezioni da uno bravo, però questa è la mia teoria, confermata dai fatti, poi se uno vuole credere a quello va bene, lo stesso. Dal solito i film, come William Rhapsody Cross, che vaneggiano, eccetera. Comunque, e lui perché? Beh, lui è il fondatore del club della J27, perché lui muore a 27 anni, è Robert Johnson. Ah, ecco perché J... Perché hanno tutti, Jimmy, Janice, Jim, Jones, hanno tutti la J, persino Amy Winehouse di secondo nome faceva Jade. Ma scusa, ma sono coincidenze o credi in qualcos'altro? Per me, no, sai che siamo su mondi opposti, tu potresti essere d'accordissimo con mia moglie Nicoletta, ma io sono un po' più terra terra, per cui per me è una coincidenza, dico a tutti però che le rock star, una volta che superano i 27 anni, se parliamo di Paul McCartney, poi vanno avanti tutta la vita, hai capito? Quindi il casino è lì. È lì. Sam Cooke, perché omicidio a Luce Rosse? Eh, perché è una storia, tra l'altro questa qua è una delle storie più, so come dirti, più particolari, più intriganti dal punto di vista del giallo, perché è un vero e proprio giallo, tra l'altro anche lì non è chiarissimo il tutto, ci sono delle, diciamo, delle teorie principali che sono quelle a cui io faccio riferimento in particolare, no? Le mie storie, la storia che io racconto di solito è quella della teoria principale, poi teorie parallele vengono raccontate nei box successivi. Sam Cooke è una persona che in quel momento è una celebrità, si era, diciamo, staccato dai Soul Steerers, che era una band di gospel di grande successo, aveva intrapreso una carriera solista, aveva, tra l'altro, appena inciso una canzone che, se ci pensi ancora oggi, uno dice, ma gli esseri umani non hanno, o hanno memoria corta, non imparano niente. Si chiamava A Change Is Gonna Come. Un cambiamento sta per arrivare. Canzone che è diventata anche la colonna sonora della campagna di Obama, insomma, un pezzo bellissimo, peraltro. Beh, il signor Cooke, come tutti i maschietti un po' pirla, come siamo noi, era rimasto attratto in una serata in cui festeggiavano, tra l'altro, dei suoi successi discografici da una signorina che, diciamo, non aveva neanche fatto mistero di non gradire, no? Le avanze o le occhiate della star della musica. Ecco, la sua Ferrarina Spider l'aveva caricata, l'aveva portata in un motel fuori Los Angeles che era frequentato, che lui conosceva bene perché era frequentato dai musicisti, perché era vicino a studi di registrazione, ed era molto appartato e non chiedevano i documenti. Per cui, insomma, lui la faceva, l'avrebbe fatta franca. La signorina, così la racconta, si è ritrovata, diciamo, in una situazione in cui forse aveva, diciamo, si è pentita all'ultimo o comunque ha voluto opporre resistenza, ma di fatto che fa? Si rinchiude in bagno, esce di nascosto, ruba il portafoglio e fugge. Lui si ritrova, con serata andata male, con beffato, truffato, si reca incazzatissimo nella reception di questo motel e questa signora di colore, che si vede quest'uomo mezzo nudo, perché quella gli aveva rubato anche i pantaloni e le mutande, con una pistola in mano, chiula dove è finita, quella puttana, insomma, collutazione e finisce che il colpo di pistola uccide Sam Cooke. Quindi, io te l'ho fatta molto breve, però è una storia che, raccontata bene, è un giallo clamoroso, oltretutto con anche lì punti molto oscuri. Ma tu non sei un complottista? No. Che bello che sei. E sennò Brian Jones l'avrebbe affogato Winnie Pooh, perché era la stessa casa. Cioè, la casa in cui muore Brian Jones dei Rolling Stones era appartenuta a questo scrittore inglese, che si chiama A.A.A. Milne, che è l'autore delle storie dell'orsetto Winnie Pooh. Infatti, se vai a visitare quella casa, ci sono proprio tutti i luoghi. Ci sei andato? E certo, fa tutte le riprese, la piscina, eccetera. Sì, sì. Soltanto che lì, su cento che vanno, 98 vanno per Winnie Pooh. Infatti c'è fuori anche il Winnie Pooh shop, dove compra i pupazzetti, i libri, eccetera. E due pirla, come i me e te, vanno lì, perché è il luogo dove ha affogato Brian Jones. Eh, ma Brian Jones, anche lì... Quella è una storia, quella è una storia misteriosa, vera, però, eh. Oh, meno male che mi esaccetta. Misteriosa, vera. Eh, perché? Però non ci sono, cioè, non ci sono... Perché io ho visto, però ti ripeto anche qui, non so dirti la veridicità. Allora, io sempre per quel programma dei delitti e poi anche dopo, abbiamo intervistato l'unica persona sostanzialmente in vita presente quella sera, che è una signora che adesso non c'è più, tra l'altro era molto carina, eravamo diventati amici, che era la fidanzatina svedese di Brian in quei giorni, no? Si chiamava Anna Holin, che però aveva la memoria, secondo me, ancora annebbiata, perché anche lì nel suo racconto c'erano delle cose che non tornavano. Vado al sodo, però. Tutta questa vicenda io sono riuscito poi a farla attraverso il responsabile del Brian Jones Fans Club, che ha speso tutti i suoi soldi nel tentativo di far riaprire l'inchiesta, convinto che dietro alla morte di Brian Jones ci fossero in qualche modo i Rolling Stones. mi ha fatto vedere tutta la documentazione, persino una lettera scritta a mano dalla figlia di questo tizio che si chiamava Frank Thorogood. Erano due personaggi chiave, Tom Killock e Frank Thorogood. Erano entrambi parti, in qualche modo, dell'entourage dei Rolling Stones, licenziati da Kit Richards, assunti da Brian Jones per ristrutturare questo cottage nel Sussex, dove è avvenuto alla tragedia che lui aveva acquistato, quello appunto appartenuto allo scrittore di Winnie Pooh, però che Brian Jones si sapeva che al di là dell'abuso di sostanze varie e del fatto che soffriva fin da piccolo di asma, era un personaggio molto scontroso, molto difficile da gestire e si sosteneva che in quei giorni lui fosse particolarmente arrogante nei confronti di questi soggetti, trattandoli da operai, usando il termine operai in senso proprio di sminuente. E per cui si dice che quella morte fosse avvenuta quasi, non so, quasi come un gioco, perché lui era in piscina, questo Frank Thorogood era in piscina con lui e a un certo punto gli ha detto, dai, siccome Brian da ragazzo nuotava, faceva gare di nuoto, diceva dai facci vedere Rockstar come sei bravo a nuotare, soltanto che hanno esagerato nel tenerlo sotto. Questo è quello che io racconto, che mi è stato raccontato da Anna Wallen. Io però vedo questa lettera scritta a mano da questa figlia di Frank Thorogood, in cui, mettici pure, che lei prendeva le difese del padre, ma diceva la colpa è di quei due bastardi, ma io so che nessuno avrà mai il coraggio, no, di fare un'azione contro di loro. Mick Jagger, che si riccia. Tieni conto che due settimane prima, tre settimane prima, l'entourage dei Rolling Stones fa un comunicato stampa in cui dice che Brian Jones non fa più parte della band. B. Il nome Rolling Stones è un'idea di Brian Jones, su questo tutti sono d'accordo, ma per la legge inglese non hai bisogno di registrare il marchio, ma se è, diciamo, risaputo che tu sei quello che ha chiamato Roxy Bar il tuo programma, tu hai il diritto del marchio. E se c'è un altro che vuol fare un programma che si chiama Roxy Bar senza di te, tu gli puoi far causa. Dopo questo comunicato arrivò una piccola delegazione dei Rolling Stones per patteggiare un vitalizio a Brian in cambio dell'uso del marchio. Non si è mai saputo che cosa sia veramente successo durante quella riunione. Anna Wallin mi ha detto che sia John Lennon che Jimi Hendrix, che erano i due amici musicali di Brian, in quei giorni gli dicevano fai bene a uscire perché ormai tu non vuoi più fare quella musica, li vuoi fare altre cose. Perché non facciamo una band insieme, magari andiamo insieme noi tre e facciamo la no, la musica che noi vogliamo. Io non voglio più stare con i Beatles. Jimmy si è rotto le palle della experience, tutte cose. Poi sai, chi mette in piedi queste altre ipotesi è bravissimo, nel senso che fa incastrare tutto. Però è anche questo. Io quella lettera l'ho vista. Io so soltanto che ad esempio loro avevano licenziato Brian Jones, avevano detto noi andiamo in un turnare in un periodo in cui lui non stava ben dissolute. Mick Jagger pare che abbia detto con Kifrizi di portargli via Anita Palenberg che era la sua ragazza, non so se sono vere tutte queste storie. Che Anita sia andata con Richards è vero che fosse la fidanzata di Brian pure, era un pochino prima. Per demolire psicologicamente Brian. Ma sai, Brian Jones da quel che sappiamo era già demolito, nel senso che se tu guardi il film documentario di Jean-Luc Godard, che è praticamente l'ultima volta che Brian va in studio a fare Sympathy for the Devil, è un corpo a parte, quasi non suona, gli altri fanno il pezzo, lui è lì con la chitarra a fare così, cioè tieni conto che fino a quel momento la band si chiamava come un nome che ha inventato lui, il rock blues era lui il depositario di quella roba là, era lui che suonava il sitar, che conosceva Jimi Hendrix, che aveva rapporti con Andy Warhol, che andava in Marocco a registrare, cioè era sicuramente il personaggio più avanti, più illuminato, poi non ha scritto Satisfaction, non ha scritto tutte le grandi canzoni che loro due poi, diciamo come società, tra virgolette, hanno fatto, e quella è stata la sua fine. Weather Report, Jacopastorius, Ido, perché stringi gli occhi? Perché anche quella è una morte brutta, stupida, stupida dovuta alla droga, lui è stato, io l'ho chiamato il Jimi Hendrix del basso, perché è stato veramente un rivoluzionario dello strumento, il basso fretless senza tasti, non dico che l'abbia inventato lui, ma lui lo ha popolarizzato, l'ha fatto diventare un suono, però anche in quel caso, diciamo, turbe psichiche, soprattutto l'abuso di sostanze, l'hanno portato a una vita dissennata, in cui non riusciva neanche più a sapere chi fosse, e finisce in una rissa massacrato da una guardia del corpo, una cosa bruttissima, da un, butta fuori di un locale, cioè, come può essere che un artista così grande, no, finisca in quella maniera così triste, così violenta, così priva di significato? Cazzo, ma parliamo solo di morti, nella storia del rock ci sono molte cose più belle. No, ma non stiamo parlando di morti, stiamo parlando di artisti che hanno segnato quella storia del rock, perché alla fine, scusa, Kurt Cobain non ha segnato anche quello? Io non credo al suicidio, tu dirai che sono complottista, ma io non ci credo che si sia ammazzato. Ma io ho parlato per tre ore con questo detective, quello che ha fatto lì, che mi ha dato anche il partner. Ma tu sei andato in America? Certo, ero a casa di quello lì, ero nella villa sulle... Certo, adesso ci stava... Ma tu quanti viaggi hai fatto? Adesso tu non hai l'altro libro che è uscito tanti anni, cioè, che è uscito dopo la storia del rock prima edizione, che si chiama Atlante Rock, che sono, ti ricordi, che sono tutti i miei viaggi che ho fatto, e la musica, adesso al di là del rock, anche in generale... Tu potresti organizzare dei viaggi, essere gente dei viaggi per... Me l'hanno chiesto, ma... Non lo fai? Perché portare delle persone a raccontargli la storia? Sì, è bello in teoria, poi fai... No, tu preferisci raccontare degli spettacoli dove suoni anche? Sì, mi diverto di più, è più nelle mie corde che non fare il tour guide, hai capito? Certo, certo. Però sì, la casa di Kurt Cobain viene sul Lake Washington Boulevard. E allora che è successo lì? Eh? Cosa ti ha detto questo qui? Allora, questo qua dice... Allora, lui non è che il complotto... Lui è un po' come il discorso dei Brian Jones Fans Club, non è che parlano del complotto, loro ti dicono anche chi l'ha ordito il complotto e perché. Allora, chi ha ordito il complotto per far fuori Carl Cobain? Beh, chi poteva... E' il discorso dei tutti gialli, no? Chi ha il movente... Il maggiordomo o il maggiordomo o la moglie? Esatto, diciamo che non aveva maggiordomi lui, no? Ecco. E quindi la moglie. Questo è quello che sostiene lui. Io ho sentito una registra... Per questo registrava... Perché questo investigatore fu ingaggiato da lei, perché Kurt era in quel periodo in un rehab a Marina del Rey, che è sempre nella zona di Los Angeles, un rehab per ricchi e famosi, dove hanno... Io ho fatto una roba alla Red Rondi, nel senso che ho ripreso, mi hanno beccato, ma ho nascosto la cassettina e gliene ho dato un'altra. No, sei un grande! Sì! D'accordo con il mio... Anzi, la mia operatrice, perché ero detto, guarda che se ci beccano dobbiamo fare così, per cui io l'avevo in tasca, no? È arrivato questa bodyguard, insomma questo responsabile, che cosa state facendo? Avete le autorizzazioni? Allora, basta, non si può riprendere, dateci quello che avete fatto. Siccome era ancora il periodo delle... Delle cassette? Delle cassette abbiamo... Te l'hai data? Sì, perché eravamo lì, eravamo sembrati apposta, questo è l'ultimo luogo in cui è stato realmente, diciamo, documentato che lui fosse lì, no? Poi lui sparisce, perché torna a Seattle, la moglie a un certo punto ingaggia questo detective, che lo trova perché era il giorno di Pasqua, questo era in ufficio per caso, lei aveva le pagine gialle, boom comincia a chiamare, non risponde a nessuno, questo risponde, risponde, va e inizia a fare le sue indagini e poi scoprono il cadavere dopo, dopo qualche giorno, però lui comincia ad avere tanti dubbi e quindi tutte le telefonate, dal prima all'ultima, lui le ha registrate tutte e nel package che tu fai, perché l'accordo era, lo posso dire, 500 dollari, stai un'ora con lui a fare l'intervista e lui ti dà il package, no? Con tutta la sua versione dei fatti e un cd dove ci sono le registrazioni delle telefonate, tra cui una clamorosa, io non ho fatto sentire un cazzo, te lo dico solo a te, una clamorosa in cui lei dice, parlo sottovoce perché qui di fianco a me c'è Billy, Billy Corgan, il cantante degli Smashing Pumpkins, con cui lei aveva una tresca, per cui lui ha registrato tutto, perché lui sostiene che numero uno, Kurt Cobain voleva divorziare, erano già state fatte le pratiche del divorzio e l'avvocatessa è una dei suoi testimoni, no? Quindi il movente è denaro, ok? Perché lei avrebbe perso, diciamo, B, ci sono una serie di indizi che, secondo lui, portano al fatto che sia impossibile che una persona con in corpo una dose di eroina come gli è stata trovata, possa fisicamente prendere un fucile e puntarselo in bocca e sparare. Però io ho beccato anche il pusher di Carcobain. Te mi fai morire, porca. Sono Sherlock Holmes o no? E il pusher di Carcobain mi ha detto che lui... Ma tu sei una mente malata, eh? Ma se devi ricostruire, ricostruire. No, ma no, no. Così almeno Red Ronnie non mi dice che c'è, capito, l'alieno... L'alieno, vabbè, vabbè, però cazzo, tu sei l'alieno, tu sei fuori. No, ma fai l'investigatore, nel mio piccolo, nel senso che, ripeto, non è una cosa, non è un indagino giudiziaria. Insomma, nel mio piccolo, cazzo, becchi tutto, eccetera. Beh, quello lì mi ha raccontato la sua storia, però anche lì, sai, io mi... No, no, no. Faccio parlare, lui parla e dice, no? E lui dice che ha preso la stessa droga che prendeva Cart, però dice, sai, quello è morto, io sono ancora qua. Anzi, io ne prendevo pure di più. Quindi, per esempio, quella roba lì, lui sostiene che non è... Non ti permette di... Quello è quello che dice quell'altro, perché era una delle, diciamo, una dei fatti su cui Tom Grant, che appunto è questo investigatore, basava le sue teorie. Poi c'erano le impronte sul coso, c'era una serie di altri fatti. Poi Carl Cobain è stato uno molto... Pensa che Asia Argento mi ha raccontato che lui l'ha... In un certo senso l'aveva vista, era una ragazzina, lei gli ha chiesto a fumare, ma poi non se le filate, c'era questo... perché lo vedeva solo. La cosa, la caratteristica è che tutti questi artisti incredibili, osannati, io ti dico per quelli che conosco io, Vasco Rossi, sono soli. Per fortuna non tutti, nel senso che alcuni, come raccontavamo prima sul discorso dell'amore o dell'assenza dell'amore, è vero, altri per fortuna invece hanno... Insomma, Bowie ha avuto tutto quello che avrebbe voluto, penso, dieci vite, dal punto di vista... Bowie, Bowie, si chiamava in manna la fede. Poi ha trovato la persona... Certo. Lori e Lou, ma chi avrebbe mai detto? Ma chi avrebbe mai detto? Due persone totalmente diverse all'apparenza. C'è una storia molto affascinante, perché coinvolge anche indirettamente un mio amico, che è Bob Geldof, che è la storia di Michael Hutchins, degli Nexess, che porta via la moglie Paula Yates, quella è una storia drammatica, quella è brutta. Brutta, e pensa che io l'ho intervistato due o tre volte lui, e mi era sembrato invece una persona così famiglia, vero? Sì, semplice. Non ti immagini mai che... No, infatti mi aveva molto molto stupito. Tra l'altro appunto accade in Australia, Sydney, so benissimo il posto perché l'Australia è stato... ho fatto tanti viaggi lì, è un paese bellissimo. Ma certo, ma vuoi mai che non sia stato in Australia? Sì, no, ma è bello, guarda... Sì, mi avevate dato un po'. Sai che cosa ho visto lì? È una roba incredibile. Allora, sulla costa occidentale dell'Australia, che è la parte più selvaggia, c'è una località, proprio nella parte in alto, in alto, in alto, che si chiama Broome, e si arriva attraversando un deserto, una zona, un'area, che si chiama The Kimberleys, che è proprio un bellissimo viaggio. Tu immagina di essere nel Grand Canyon 150 anni fa, no? Cioè, un posto con le rocce rosse, i canyon, però non c'è un cazzo, non c'è il McDonald's, non c'è quello che c'è in America, non c'è niente. E arrivi sulla costa a Broome, e eravamo in un albergo tramonto, sentiamo il suono del digeridoo, sai lo strumento degli aborigeni? Ma tanti digeridoo, tutta la gente che andava verso la spiaggia, per cui io e mia moglie siamo scesi, siamo andati, e abbiamo beccato un fenomeno che c'è tutti gli anni, che è praticamente un riflesso della luna sull'acqua, e è una specie di scala, infatti la chiamano Stairway to Heaven, come la canzone delle Zeppelin, la scala verso il paradiso, ed è un effetto ottico della luna in un certo periodo dell'anno, e che accade solo in quel luogo lì, e loro lo celebrano come un dono divino, comunque, capito? E tu c'è stato? Sì, sì. E tu l'hai visto? Il Stairway to Heaven, come no, certo. Certo, ma naturalmente, siamo lì in quel giorno, coincidenza. Ho visto l'Aurora Borealis, che è meglio dell'LSD. Hai provato anche l'LSD? No. No, 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 io qua con le droghe ho avuto rapporti minimi, minimi, minimi. Lo farei forse adesso, magari, ma non da piccolo. Sì, sì, no, adesso perché sono sicuro di quello che faccio, capito? Senti, ma Michael Hutchins, ecco, lì, anche lì non si capisce bene, perché lui è impiccato. Dicono per un gioco erotico che quando ti manca l'ossigeno godi di più. Non lo so. Mi sembra una puttanata anche quella, detto tra di noi. Però Paula Yates l'aveva messa in giro, questa voce. Fu proprio lei a dirlo. O lei la sostenne, diciamo. La sostenne. Nel senso che diceva, sì, sai, lui è, lo conosco bene. Comunque era uno fantasioso, no? Ok, era fantasioso, però chi poteva avere interesse a farlo fuori? A farlo fuori non lo so, io però ti posso dire una cosa. Per mia sfortuna ho avuto due persone amiche che sono tolte la vita. E se prima, anche facendo queste, scrivendo queste storie, facendo queste indagini, avevo una mia idea sul suicidio, poi l'ho cambiata completamente. Nel senso che, secondo me, è veramente un mistero. Cioè, è come se una persona avesse al proprio interno una bomba che prima o poi esplode, ma non c'è un motivo per cui esplode, hai capito? Per cui la vedo in quel modo lì, ecco, anche per questi casi. Io non so, in alcuni casi poi sono suicidi, magari non neanche volontari, sono quasi incidenti, no? Whitney Houston, tanti altri. Cioè, ci sono alcuni casi che passano. Io anche li ho catalogati qua, perché ho fatto la classificazione nel libro per cause di morte e poi ho cercato di renderla un po' più poetica dandogli titoli di canzoni, ma in realtà ho diviso le varie storie a secondo proprio della tipologia, no? Quindi c'è Rock and Roll Suicide, dove ci sono dei suicidi che secondo me, tecnicamente, non sono tali, ma sono delle sorti di incidenti. Non è proprio la volontà precisa con la lettera e tanto quanto, hai capito? nel caso di Chris Cornell è una cosa un po' misteriosa. Poi passa quel discorso lì, però c'era dietro. Ma si dice che Chris Cornell, dicono, stesse denunciando degli abusi di minori. Quella è un'altra storia. David Geffen e Compagnia Bella. Tutta la lobby della Hollywood. E quindi misteriosamente si suicida, comodamente. Un po' come adesso sta uscendo anche, non c'entra nulla, ma quella che era la banca lì di Monte dei Paschi di Siena. Ah sì. E beh, le notizie ce l'hanno proprio appeso e buttato giù, perché stava denunciando festini. E vabbè. Ian Curtis è un suicidio, Joy Division. Ti è piaciuto il film che hanno fatto su Ian Curtis? Quello mi piaciuto. Anche a me. Ma quello l'ha fatto, come si chiama, il fotografo degli U2? Control, il film, vero? Sì, sì, si chiama... Hai capito quello che ha fatto tutte le foto? Bravissimo. Sì. Ho un vuoto di memoria, perché ormai l'età avanza e la memoria si riduce. Anche perché, sai, l'hard disk ha una caffiera. Cioè, ho butti nel cestino delle robe e vuoti il cestino, ma altrimenti è un po' stasso. Già il tuo... Però ci siamo capiti, insomma, con gli aspassionati. Comunque, Keith Emerson. L'hai conosciuto, lui? No. Tu l'hai conosciuto? Sì, 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 l'ho intervistato. Anzi, l'ho avuto sul palco insieme. Allora, rewind, l'ho visto all'epoca, dell'epoca, 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 Emerson, Lake & Palmer, che non erano, come dicono gli inglesi, proprio la mia tazza di tè, però era fenomenale. Erano fenomenali e lui era clamoroso. Poi è stato con me sul palco alla Salumeria della Musica di Milano, un locale dove ho fatto per tanto tempo un programma radio, però lui aveva già dei problemi, perché aveva un problema di... alla mano sinistra o destra, se non mi ricordo più... no, forse sinistra, forse destra, e lo si vedeva, perché lui comunque era abbastanza virtuoso anche nel suonare. limitava molto quel tipo di roba lì. Molto ostico come soggetto, però la volta successiva, che l'avevo intervistato poco prima che morisse, invece fu molto più carino, e mi ricordo che mi spiegò, off records, come si dice, cioè fuori dalla telecamera, come funziona questo Moog che lui usava, che sembrava un centralino del telefono, perché io ho sempre avuto la curiosità, e mi ha detto, ma che cacchio sono quegli spinotti, no? E mi aveva dato la sua spiegazione tecnica, e l'avevo visto, che è una chiave, ho notato, per me naturale con i musicisti, perché gli chiedo delle cose magari relative ai loro strumenti, ecco, da lì scatta... L'amore, perché tu sei musicista, quindi... Diciamo che la mia passione per la musica inizia perché io suonavo e continuo a suonare, no? Però non mi considero musicista. No, ma tu hai una cantante molto brava, non so se c'è ancora Brunetto. Com'è la Brunella e soprattutto ormai siamo un trio con Andrea Miró. No! Sì, che è forse... Andrea è una delle musiciste più in gamba che abbiamo in Italia, arrangiatrice. Siamo stradaccordo. Guarda, non ha mai avuto... No, guarda, è un peccato mortale. Andrea Miró, ragazzi, è fantastica, moglie di Enrico Ruggeri, però... Lei è un'artista incredibile. Però? Andiamo avanti sul però. Voglio di Ruggeri, però... Però andiamo avanti. Però Enrico ha fatto la prefazione di questo libro. Enrico, Enrico, Enrico. Enrico è un mio amico. Enrico, allora devo dire che... è per me è un onore aver scritto per Ezio Guaitamachi questa prefazione. Sì, lui ha un enorme difetto che è interista ed è una roba che non potremmo mai risolvere. Eh, non so, vabbè... Non potremmo mai risolvere. Dovresti fare. Visto che sei così tifoso del calcio, il prossimo libro potrebbe essere Gli artisti e i loro tifi. Guarda, io sono adesso transitato da Reggio Emilia. Quando sono passato mi è già salita l'ansia per domenica. Ma tu sei stato domenicano? Ho trovato i biglietti, sono introvabili. Quello lì è un altro scandalo schifo di cui non parla nessuno. Cioè? Cioè? Che i biglietti dei concerti fa ridere in confronto. Si parla di duemila, tremila. Poi anche biglietti che... È uno scandalo! Allora, allora, stabiliamo una cosa. Oggi... Che cosa è già il 20? 19? 19. Oggi è 19 maggio 2022. Io sto facendo questa intervista a Dizio Guaitamacchi. Dizio Guaitamacchi è milanista come ero io da piccolo però rimani legato. Allora è milanista, milanista. Come alcuni miei amici. E quello che succede in questo periodo è molto strano perché ad esempio parlo con un altro mio amico che è Alessandro Usai e dico senti Ale, ma... Che ne so, si parla del cibo che adesso vogliono mettere l'OGM si dice sì, ma la cosa più importante è domenica Sassuolo tutto il resto non conta. Alessandro Usai nella stessa chat mia di milanisti siamo 150 anni amici. Esatto, esatto, esatto. E quindi domenica non sappiamo ancora come andrà a finire ci sarà la partita Sassuolo-Milan a Reggio Emilia e Inter-Sandoria a Milano. E si deciderà lo scudetto quindi non sappiamo come andrà a finire. però dico come in serio? Ah, perché sei passato da Reggio Emilia e perché? E cosa volevi dire? Enrico Ruggeri Interista Sì, no, ma non Enrico Ah, Enrico Ruggeri ok, ok, ok. Siamo a Keith Emerson e lui tu l'hai trovato carino però alla fine? La fine anche lui è una... si toglie la vita anche lui nella sua casa californiana. Scusa ma Dolores O'Riordan dei Cranberries tu l'hai messo tra i suicidi ma... È un altro incidio sì, allora devi tenere conto che poi ho fatto un po' delle forzature no? Per diciamo Dolores voce incredibile sì però ragazza che ho sempre visto triste eh, grazie sì, però lei racconta anche delle cose brutte nella sua storia c'è un abuso di infanzia di un amico del padre e lei racconta questa cosa che le ha segnato la vita tra l'altro una nostra conoscenza comune è stata la sua assistente personale per qualche anno e mi aveva ricordato raccontato beh non so se è giusto farlo in pubblico comunque un'ex discografica è stata la sua assistente personale ma aveva raccontato tutti i problemi che aveva questa ragazza che aveva una voce stratosferica io la vedi tra l'altro nel periodo top loro cioè all'uscita di zombie dell'album cioè dell'album che conteneva zombie e alla riedizione di Woodstock nel 1994 suonare di fronte a credo 70-80 mila persone e una voce fantastica cioè non era soltanto voce era un po' come la Winehouse è voce è espressività è cosa unica sì io l'ho avuta a Roxy Bar peccato un grande peccato sì molto a Vici qui il mio complottismo ti dice che mi sussurrano sia stato fatto fuori ma questa è una storia stranissima questo ti posso raccontare per esperienza vissuta ed è il motivo per cui anche io ho voluto inserire lui e questo trapper che si faceva chiamare ex 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 tentazione un po' per dare anche far capire che non stiamo parlando soltanto dei nostri grandi eroi però questo mi aveva molto incuriosito perché la morte è accaduta nel sultanato dell'Oman che è uno dei viaggi più belli che ho fatto e che ho quindi no ma sei andato anche fuori dall'Italia una volta sì è un viaggio bellissimo che consiglio a tutti peraltro nel sud dell'Oman c'è il confine con lo Yemen di cui nessuno parla ma che da 15 anni è una delle cose più brutte che accadono nel pianeta Terra uno dei posti più leggendari dal punto di vista culturale architettonico artistico che in una guerra civile sanguinaria disumanitaria di cui nessuno parla come nessuno parla più dell'Afghanistan cioè noi viviamo ormai in un mondo in cui l'informazione nonostante avremo la possibilità di sapere tutto viene canalizzata in maniera schifosa io sostengo sempre che tutti sanno dei 2200 morti delle due torri nessuno sa del milione di morti in Ruanda per un genocidio e se non c'è fosse stato il film in Ruanda non l'avrei saputo neppure io sono stato anche lì però non volevo dirtelo io ti picchio alla fine ti picchio no però guarda che quando ci vai quella roba lì ti rimane dentro c'è ancora questo a me sì così come i fili spinati in Sudafrica che vedi ecco Sudafrica faccio una descrizione Sudafrica Sun City l'operazione più bella che si è stata fatta molto più di Bandai di We Are The World certo con l'amico Little Steven esatto io sono io ho detto e questo mi ha creato tante cose che io non sono mai stato incuriosito di chiedere un'intervista a Freddie Mercury perché aveva sonato a Sun City trasgredendo questo embargo che gli artisti avevano fatto ma però secondo me allora tu parli di quello pensa Graceland forse uno dei dischi più belli che abbiamo mai fatto Paul Simon in vita sua però ha sfruttato anche lui sì però mi viene da dire chi se ne frega nel senso che l'ha fatto per una buona cosa hai capito cioè non è stato un'operazione cioè non le vedo come operazioni commerciali capito le vedo sotto un altro punto di vista io non avrei mai conosciuto forse la musica del Sudafrica in tutte le sue sfaccettature se e mi ricordo benissimo sia quel concerto di Milano della tournée di Graceland sia l'intervista con Miriam Makeba che partecipò al concerto di Graceland in Zimbabwe che quando mi raccontava quella cosa si è messa a piangere perché lei su quello nessuno può dire niente di Makeba esiliata esiliata la chiamavano mamma Africa voglio dire è stato un personaggio assolutamente alla Nelson Mandela no? come dire Avicci Avicci è un DJ svedese di enorme successo devo dire ho ascoltato la sua musica e non la trovavo neanche male è bravo un ragazzo giovane di grande successo viveva in California e decide di siccome anche lui piacevano i viaggi mi aveva incuriosito anche questo infatti avevo visto notato questa foto proprio a Cape Town aveva fatto l'escursione al Table Mountain che è la montagna che a lui piaceva e aveva questa cosa che mi aveva anche incuriosito di questo gruppo di amici cioè con cui avevano fatto una sorta di patto quando erano al liceo no? se qualcuno di noi avrà successo andremo saremo tutti insieme e lui mantenne la promessa nel senso che uno faceva gli faceva da assistente l'altro insomma e fanno questa vacanza in Oman che gli viene offerta nel momento in cui lui stava registrando un nuovo disco per prendersi una pausa lì succede che a un certo punto però lui sparisce ed è quello il vero mistero sono due misteri grande quello che succede che non si sa due che i genitori non fanno nessuna indagine allora il sultanato dell'Oman per esperienza diretta è un paese arabo non ancora commercializzato ma tra poco secondo me lo sarà dalle navi di crociera eccetera però è un paese dove c'è un sultano lì ho anche capito la filosofia di Silvio Berlusconi che voleva essere un sultano cioè uno che governa a proprio piacimento un popolo da cui compra delle terre che erano piene di petrolio il deserto o il mare con il gas e fa la vita che gli pare da controllore di tutto ed è tutto controllato quindi polizia esercito cioè è un posto che tu te ne accorgi dopo due giorni che sei lì se parli con qualcuno noi eravamo io mia moglie il nostro omino della Jeep con cui siamo stati due settimane che all'inizio era un po' sulle sue poi alla fine si è lasciato andare e ci ha raccontato tutto per cui questa storia mi fa capire che c'è un insieme di cose tra cui questa diciamo come posso dire cappa no di riservatezza tra virgolette ma perché i genitori gli amici non hanno fatto niente questa morte passa è derubricata no come suicidio punto di domanda fine ma dove lo trovano il corpo lo trovano in un in un luogo che tra l'altro era se non ricordo male un luogo dove facevano dei convegni legati sempre alla diciamo al panismo no 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 legati sempre al sultanato diciamo alla alla famiglia reale chiamiamola così no e viene trovato sgozzato cioè come se si fosse tagliato la gola no ma allora no ma io ti dico no è come il calcio no allora tu dici ma se tu hai giocato a pallone la prima cosa che guardi è la reazione che ha un giocatore no perché i giocatori sono i primi arbitri poi ci sono gli arbitri poi c'è il VAR se fanno un gol e guardano l'arbitro vuol dire che vogliono vedere se il portiere dell'Inter prende un gol e non dice un cazzo e l'arbitro ce l'ha nulla per fuori gioco ma te dimmi ma ha senso sta roba ecco qui qui torna fuori il milanista e qui torna fuori ha senso no non ha senso non ha senso non c'è col problema in realtà secondo te che noi un po' il mezzo televisivo lo conosciamo quanto ci vuole a spostare la reghina rossa e blu del VAR zero attimi perché durano tre minuti per guardare le immagini che noi in un secondo le guardiamo subito tre minuti perché aspetta una telefonata appunto ok su questo sono un po' più per fortuna non è complottista sul calcio però siccome è come il wrestling o il paglio di Siena ci si diverte lo stesso però diciamo che quello che dà fastidio è il negazionismo esatto comunque a Vici non si sa bene no è una brutta storia quella è un'altra brutta storia ma diciamo il complottismo cosa dice che ci prende poi sempre il complottismo che cosa stava facendo lui no lui stava facendo sì ma stava denunciando qualcosa anche ah no è vero c'è ragione porca vacca è vero stava denunciando anche lui qualcosa aveva anche lui fatto forse un po' come come Chris Cornell come Chris Cornell sì eh è ragazzo il numero mi sono anche un po' perso nella memoria come forse Stanley Kubrick che fa I Why Shut e non riesce a finire il film eh non è che poi mi prende crozza anche a me siamo finiti non è che non è che che hai capito visto che I Why Shut è un film sulle perversioni sessuali dei potenti dei ricchi è bello bellissimo bellissimo però bellissimo io che non capisco niente di cinema mi è piaciuto andiamo avanti moltissimo senti che bello che non mi ha ancora chiesto niente dei Mane Skin che felicità scusa ma in tutti questi libri io credo che noi stiamo parlando di persone che sì però sai sulla storia del rock noi abbiamo quella nuova edizione abbiamo l'ultima sezione sarebbero gli ultimi vent'anni che è stata una difficoltà in Mane perché ho fatto sei capitoli ho fatto Jessica Testa è una mia ex allieva mia collaboratrice ma hai messo i Mane Skin in qui? no è stato difficilissimo perché abbiamo optato per scelte allora tu sei un esperto musicale ok i Mane Skin vincono Sanremo con un brano copiato da Anthony Laszlo fuori di testa hanno successo con una cover ok ho visto è stato bellissimo una critica fatta a Monina bella che dice all'Eurigio Music Festival hanno fatto una cover dei Nirvana perché l'attacco è dei Nirvana anche se dicono che è loro non ti dico quello che mi ha detto guarda da qualche parte ce l'ho fammi sentire fammi sentire perché perché da qualche parte Bobbi Solo guarda Bobbi Solo tu mi vai a toccare Elvis Presley vediamo un po' Bobbi Solo come sta lo zio Bobbi sta benissimo sta benissimo allora dov'è qui ecco senti mi manda Elvis dei Mane Skin e dice io mi vergognerei fratello Elvis se sta rotolando nella tomba a Memphis se sente la tomba che ho fatto tutto tutto sta a muo e Elvis nel paradiso sta dicendo ma tu ti puoi di testa ma tu sei fuori di testa hai capito amore ti volevo tu sei fuori di testa ecco quindi no non ti chiedo di loro hanno un merito aver riportato i ragazzini a desiderare di suonare degli strumenti questo è vero me lo dicono tutti ma hanno anche altri meriti per l'amor di dio io quello che diciamo contesto è chi diciamo oltre a questi meriti ne attribuisce altri che non hanno beh come in Greta Fanfleet che sono carini ma sono in Led Zeppelin rifatti oggi però va bene così oh yes oh yes va bene senti grazie a te iç FUCK a te tra va qui è va a va Grazie a tutti.